Lei non lavora? No, senza lavoro, senza niente. Come fate ad andare avanti? No, andiamo a rubare. Andiamo a rubare. Andate a rubare? Sì, andiamo per me. E dove andate a rubare? Giro. Giro. Dichiarazioni shock che hanno sollevato la rabbia, l'indignazione, il risentimento dei vicentini. La nostra intervista al nomade che ammette candidamente di vivere rubando ha fatto scatenare il web con quasi 3.000 click su YouTube e con 11.000 visualizzazioni in poche ore su Facebook dove il segretario cittadino della Lega, Matteo Celebron, ha postato il nostro servizio che ha ricevuto subito tantissime condivisioni e moltissimi commenti irritati ed esasperati. Questo giovane nomade però aveva voluto lanciare un appello al sindaco Achille Variati, ricordate? Vi rivolgete direttamente al sindaco di Vicenza, cosa gli chiedete? Una pezza di terra, un terreno, qualcosa, che ci mettiamo i nostri caravan, viviamo a posto. Però voi dovete pagare questo pezzo di terra? Sì, sì. Paghiamo luce, acqua. Luce, acqua, paghiamo. L'acqua la pagano, ci dicevano, ma volevano dal comune un terreno e una casa popolare. La stessa richiesta che oggi anche altri nomadi hanno fatto al nostro microfono. Però non è così scontato che vi diano un pezzo di terra così? Una casa, appartamento meno. Voi ci stareste in un appartamento? Voi andreste a vivere in un appartamento? Sì, casa popolare. Una casa popolare e un terreno, ecco cosa vogliono questi nomadi. E noi oggi portiamo anche la loro voce, come facciamo con quella dei Vicentini, al sindaco Achille Variati. Come risponde all'appello di questo nomade? Il comune si occupa veramente di tutti e lo deve fare per norme e per legge. Però, caro signore, lei non può chiedere a me cose che io non intendo darle per giustizia. Lei deve trovarsi un lavoro. Deve trovarsi un lavoro onesto. Deve lavorare e allora vedrà che avrà la possibilità di avere una casa, di dare un'educazione ai propri figli, perché il suo comportamento e le sue parole non meritano risposte positive. La risposta è semplice, no.